ciao sono nicola galloro e anch'io ascolto radio inizia il campionato ciao sono davide terraneo e anch'io ascolto radio inizia il campionato ciao sono francesco a chiardi anch'io ascolto tutti i giorni radio inizia il campionato ciao a tutti sono antone fioretto e anch'io ascolto radio inizia il campionato ciao sono augusto santini e anch'io ascolto radio inizia il campionato ciao ciao sono andrea corallo e anch'io ascolto radio inizia il campionato ciao a tutti sono giulio incagli e anch'io ascolto radio inizia il campionato ciao sono giovanni remigare e anch'io ascolto radio inizia il campionato ciao ciao sono pietro cartolano e anche io ascolto radio inizia il campionato Ciao, sono Enzo Margiotta e anch'io ascolto sempre, ma sempre, Radio Inizia il Campionato. Allenata da Paolo Fonseca, il Sektar Donetsk schiare 4-2-3-1, Adry Pajatov in difesa, il Capitano Dredijo Zrna, Ivan Ordez, Varoslav Rakitski e Ismaili. Poi, a centro campo, Fred e Traps Stapenenko, poi in attacco, Marlos, Tyson, Bernard e, questo era il centro campo, l'attacco è Marlos, Tyson, Bernard è l'unica punta che è Fecundo Ferreira. La squadra di Maurizio Sarri, 4-3-3, con Pepe Rena in porta, Fuzzi Goulam, Caliù di Cunibarino, il Biollo del Siusa in difesa. Centro campo, il Capitano Mare Kamsic, Amdudia Parà, Pietro Razzelischi, Lorenzo Insigni, Arcadio Gimini e Giuseppe, Maria, Kaj e On, sono loro a guidare l'attacco proprio del Napoli. Partita che è iniziata da pochi minuti, da circa 4 minuti, non ci sono state bellissime azioni in questi momenti. Bellissimi l'arbitro è Felix Zawajer, l'arbitro tedesco, siamo qui al Metallis Stadium, Kharkiv, Ucraina. Non si è potuto giocare a Kiev la partita, ma si gioca per motivi politici, gioca Kharkiv. Ucraina, gentili ascoltatori, qui da Donetsk, una calorosa buona serata a tutti. Dovrvi letto le formazioni di questa bellissima serata, una serata straordinaria, una serata spettacolare per il Napoli. Allora, lo Shakhtar ci prova, Tyson dello Shakhtar di Donetsk. Allora, Tyson dello Shakhtar di Donetsk non ha fatto... Allora, Tyson 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 di Donetsk non ha fatto... Grazie. Di Maurizio Sarri. Sta facendo un po' di palleggio, un po' di eval, cercare di onesco, però non è riuscito a fare qualcosa di più. Per questi primi sette, quasi sette minuti. Allora, a parte il numero 19, Fecundo Ferreira, non è riuscito Fecundo Ferreira ad andare al gol perché Pepe Arena è arrivato velocissimo. Pepe Arena, bravissimo, straordinario, il portiere che mira il nostro campionato italiano, bravo Pepe Arena, io voglio ammettere che Reina sa quello che fa, sa il fatto suo Pepe Arena. Io lo ammetto, Reina è un grande giocatore, anche come Cesni, Cesni però ha abbandonato Europa e è andato a Juventus, quindi non si può dire più che Cesni sarebbe un titolare fisso. E allora, proprio in questo match, il Napoli ci ha avuto un po' di dai e vai. In questo istante regala la palla, lo Cittardones, che ha lì due con i bali. E quindi, una brutta, bruttissima, un bruttissimo errore ha fatto proprio il giocatore del Napoli. Allora Allora, il Napoli non riesce a concretizzare in questi minuti. Sempre di più la Dinamo di Kiev, quindi lo Cittardones, lo Cittardones, sempre lo Cittardones sta andando, ci vuole provare lo Cittardones, vuole far qualcosina, ve lo voglio ricordare, qualcosina in più. Quindi, deve, secondo me, fare di più questo Napoli. Questo Napoli, di Amorizio Sarri, la squadra di Sarri, che non è, secondo me, ancora, in questi primi minuti, c'è un po' di sbandamento del Napoli, ve lo voglio dire. Sta facendo il day e vai, lo Cittardones, allora il portiere Pajotov ribatte il pallone da Capriano Serrana. Ancora da Serrana, arriva al numero, numero 8, no, il 31, Ismaili. E allora, proprio bellissima. È una bellissima partita questa, però il Napoli non sta attaccando il Napoli, il Napoli vuol dire che non è che attacca molto spesso il Napoli, il Napoli sta facendo veramente fatica. E allora, proprio, lo Shakhtar, lo Shakhtar Donetsk contro il Napoli. E' una partita davvero, ve lo dico, davvero, davvero da brividi per lo Shakhtar Donetsk che sta facendo una partita straordinaria, srepitosa in questi primi minuti. Vedremo se il Napoli si difenderà molto bene. Calcio di punizione per lo Shakhtar Donetsk. Allora Va il numero 6 Stepenko, a basso Stepenko per un compagno, ma non riesce a concretizzare il numero 10, Bernard, non è riuscito a concretizzare. Mi pare, vuole riparatire il... ... ... ... ... ... ... E allora una bella, bellissima partita E' una partita davvero interessante Questa che vede coinvolta la squadra di Maurizio Sarri contro un'altra Ucraina Perché stanno iniziano E allora proprio Proprio sta andando bene lo Shakhtar Donetsk Non riesce a fare secondo me una partita eccezionale Però poteva fare qualcosa in più secondo me adesso E allora Allora Diciamo che la squadra La squadra di casa Sta veramente andando benissimo La squadra La squadra di casa Deve secondo me la squadra di casa dare qualche Deve dare un po' di continuità in più Deve dare un po' di continuità in più Deve dare un po' più Di cambi Però voglio dire questo Adesso batte la rimessa laterale 1-31 Ismaili Già abbattuta la La rimessa laterale Proprio Stanno giocando Samna Ordetes All'inghietro per Pajatov E allora E allora Lo Shakhtar di Donetsk Sta Ehm Facendo qualcosina di Interessante Shakhtar di Donetsk Vediamo un po' i giocatori del Napoli in affanno In questo avvio Di In questo avvio di partita Non sanno i giocatori Ehm I giocatori del Napoli in In affanno Proprio per questo I giocatori del Del Napoli Devono Ehm Praticamente Fa Dare Ehm Qualcosina Devono Dare qualcosina in più Alla Alla squadra Ehm Alla squadra Purtroppo Ehm Purtroppo Ehm Quello che vuole Fare Ehm Quello che vuole fare Proprio il Il Napoli Ehm In questa fase Ehm Di inizio Una grande fase Segna Il numero 7 Tyson Splendida azione Di Tyson La difesa del Napoli Si è imbambolata Vi racconterò Ancora il gol Un gol straordinario Sembrava così Che il pallone Era uscito Ma in Fattore del Napoli Si è addormentata Ha lasciato uno spazio Si è Fuzzigulam Ehm Si è Fuzzigulam Ehm Che Pietro Zielischi Hanno lasciato il gol Al numero 7 Tyson E quindi Tyson E' andato alla rete Dell'1 A 0 Ehm Tyson Quindi segna La Dinamo Ehm Segnio Scalmi Ocec Dardonesk Con Di Paolo Fran Fonseca Di Paolo Fonseca Quindi Il gol di Fonseca Di Di Tyson Quindi la squadra di Fonseca In vantaggio per 1-0 Vediamo se Che non sia un inizio Speriamo che non sia un trancolo Del Napoli Questo dopo Questo gol Subito Gentiliari Ascoltatori Però Veramente fare Qualcosina Fare qualcosina In più Devo dire Per il Napoli Sarebbe Una cosa straordinaria Però Il Napoli Come lo scorso Hanno preso il gol iniziale Poi Ne segnò Due Arcadius Millic Quindi potrebbe fare Anche questa sera La differenza Arcadius Millic C'è stato Secondo Mi sa Un Guarda Lì Nel fallo Di Cali Duicuni Di Cali Duicuni Bali Cali Un bravissimo Giocatore Cali Duicuni Bali Deve Stare attento A non fare Questi falli Anche D'attacco Perché Potrebbe vendere Il giallo E quindi Cali Duicuni Potrebbe Stare Ancora Apoli Il Donetsk Ancora il pallone Ancora il pallone Il Donetsk Con Marlos Marlos Lo scambia Per Stepenko Ancora Da gioco Un po' Di Vai Macari Prende il pallone Regala Pietro Zeriski Con il numero 40 Il numero 33 Fuzziculam Li doi scarica Indietro Per Pietro Zeriski Ancora Indietro Per Per Cali Duolivello Pasa Fuzziculam Il numero 33 Raul Albiolo Il pallone Un numero 33 Scusa Quindi Prima Il Retto Passaggio Era per Raul Albiolo No Per Fuzziculam Che Al numero 31 Fuzziculam E allora Diciamo Che Deve 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 Qualcosina Di Più Proprio La Squadra Partenopea Dopo Che Napoli È Secondo me Nettamente Superiore Alla Squadra Alla Squadra Ucraina Ancora Il Cacciangolo Battuto Male Dal Napoli Tutte C'è stato Un fallo In attacco Proprio Un fallo In attacco Non abbiamo capito Di chi è Il fallo Quindi Albero Fermi Il gioco Fermo un po' Il gioco Mi sa che deve uscire Vediamo Lo guarda Lo guarda L'arbitro Di porta L'arbitro Di L'assidente Di porta Ha preso Il numero 26 Del Napoli Cali Di Cunibali Cali Di Cunibali Che è un Grande Un grandissimo Giocatore Cali Cunibali Ma quando Rischia il giallo Questa è un'azione Involontaria Perché è stato Colpo di testa Ma Se è un'azione Un'azione Da Diciamo Da giallo Avrebbe Comunque fatto Qualche Errorino Il giocatore Del Napoli Ancora Il pallone Vane Per il Donesco Peperena Peperena Ferma Ferma Il nuovo Tyson Bravissimo Peperena Un portiere Staudiano Un portiere Eccezionale Per Peperena Peperena Un portiere Eccezionale Il Napoli Ancora Il Napoli Con Ci ha provato Sempre Mi sembra Cali No Allora Mi sembra Cali Di Cunibali Però Non siamo usciti a vedere Vediamo Allora Ce l'ho Ancora Non Ci muozi Prima di Tyson Bellissima Sbaglia Cali Di Cunibali Questa sera Non è in partita Non è in partita Ve lo giuro Non è in partita Cali Di Cunibali Con la mano Ancora Scambia per Il numero 42 Adesso C'è il pallone Cali Di Cunibali Che fa un Crefetto Un cross Calcio In angolo Per Il Calcio in angolo Per l'SSC Napoli Allora Bravo Il Napoli Il Bravissimo Il Napoli A reagire Il Il Napoli Il Napoli Il Napoli Il Napoli Vuole reagire La squadra di Maurizio Sarri Andiamo a vedere Questo Andiamo a commentare Questo calciangolo Per battere Numero 31 Fuzzi Goulam Parte Fuzzi Goulam Molto So La dinamore Della C'è 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 Scatemi Se fa Pardon Delle Errore Se chiamo Shaktar Dinamo Scatemi Fuzzi Goulam Ancora Fuzzi Goulam Il pallone Va a prendere Paiatob Bravissimo Paiatob Ha fatto qualcosa di Straordinario Paiatob Perché C'era L'assediamento Nelle maglie Nelle maglie Partenope I giocatori Napoletani E quindi Hanno voluto Far Qualcosina Di Eccezionale Ancora Il pallone Va a Paiatob Paiatob Lo rinvia Ancora Napoli Che deve Difendersi Ma vuole ripartire La dinamo Di Kiev Tyson A 15 minuto Ha fatto Il gol Dell'1-0 Ed era Ve lo dico Di nuovo Tyson Che ha voluto Mettere In difficoltà La squadra La squadra Allenata Da Paolo Fonseca Paolo Fonseca Che ha fatto Sta allenando Una squadra In una bellissima Squadra Proprio Fonseca E allora Con Fonseca Che è un Anionatore Eccezionale Fonseca Direi che Proprio in patria Sta facendo un buon Campionato Adesso andiamo Andiamo adesso A ricordarvi Gli altri Altri Mee Risultati Allora Feinor Feinor 0 Manchester City 2 Gruppo F Gruppo E Liverpool 1 Sevilla 1 Sempre Gruppo E Maribor 0 Spartak Mosca 0 Gruppo G Porto 1 Bezikta 1 Lepsing 0 Esmonago 0 Poi Yamari 2 0 Tottenham 2 Borussia Altomund E ho già detto Che il Tottenham Era molto Molto Forte E allora Poi Shaq Dardone Avertiamo di Primavera Di scuola di primavera Di Giovanni Shaq Dardone Scander 19 1 SSC Napoli Under 19 2 2 E Maggio Sardini Fa il terzo gol Ve lo vi aggiorno Adesso Andiamo a seguire la partita Di Nossi Azzurri Con il nostro Tabellino Vi aggiorneremo Quasi costantemente Per il tabellino Di basket Italia 30 Serbia 38 Nel Proprio Nel secondo Nel secondo Quarto Nel secondo Quarto Per il momento Il primo quarto Per un punto L'ha dominato La Serbia 17 A 18 Mentre Secondo Quarto Lo sta dominando La Serbia 13 A 20 A 20 Serbia Quindi Potrebbe Per qualcosa Quindi 30 38 Adesso Torniamo Alla partita Di calcio Napoli Tra Shakhtar Donetsk E Napoli E Napoli Sempre qui Al Metalis Stadium Di Krakiv 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 Allora ancora La formazione Allenata Da Maurizio Dari Sta sbagliando Ancora Un'altra Possibilità Per Tyson Che ci ha provato Ha calciato Tyson Ma Pepe Rena È un mostro Sta parando tutti Dopo l'1-0 Pepe Rena Non vuole fare figuracce Questa sera Quindi Gentile Ascoltatori È un mostro Tyson Ma un mostro Anche Pepe Rena Bravissimo Pepe Rena Adesso È un fuorigioco Di Proprio Del numero 99 Cali Numero 99 Arcadius Melek Che lo scorso anno Segnò Contro L'Animo Kiev Due gol Che fecero Rimontare Alla squadra Alla squadra Partenopea Alla squadra Partenopea Due reti Ancora Il retro Passaggio Per Ismaele Stacca di testa Il numero 42 Di Madhudia Vara Bellissima Madhudia Vara Un gran giocatore Madhudia Vara Può fare qualcosa In più Madhudia Vara Intanto viene Battuto Il calcio Di punizione Perché Madhudia Vara Ha fatto Il fallo È stato già battuto Dal Dal Donetsk Vuole ripartire Il Lo Shakhtar Ma non arriva il pallone Quindi lo lascia Scorre anche Il giocatore Numero 26 Cali due con i belli Quindi non riesce a prendere Il Quindi Del pallone A Pepe Veina Già battuto Già Già giocato Bel pallone Vediamo la nostra postazione Maurizio Sarri Che è un po' Passeggio Incredulo Del Primo Gol Allora Quindi Ci prova Il tiro Il tiro C'è Il numero 99 Arkadius Menik Ma para Bravissimo Pajatov Grande Pajatov Eccezionale Pajatov Però Bellissima Ma devo dire Bellissima Rimessa Con Le mani Proprio Di Pietro Zieli Bravissimo Pietro Piotr Zieli A mettere Un grande Rimessare A vedere subito Il numero 99 Arkadius Menik Vediamo se Menik Si segna Di nuovo in UEFA Champions League La doppietta Ma riparte Tyson Tyson ancora Tyson vuole Ripartire Ma non riesce Deve tornare Nero Tyson C'è Uscita il pallone Regale Il numero 31 Ismaili Regale Il numero 31 Ismaili Regale Il pallone Agli uomini Isari Per una rimessa Laterale E allora Gentili Radioascoltatori C'è Tardone Scuno Napoli Zero Ha segnato Tyson Ha segnato Tyson Proprio Tyson Un bellissimo Gol Tyson Purtroppo La squadra Di Maurizio Sari Non sta Facendo Del suo Meglio La squadra Di Isari Quindi è Costretta La squadra Di Isari A giocarsi Un po' Di Vai Però Adesso Sta facendo Vedere Che c'è Napoli Per una Nessuna Ricola Ancora Il pallone Era per Arcadius Milch Proprio da Marekamsik Ma è stato Fermato Da Fred Il pallone Il pallone E quindi C'è C'è Il calcio Angolo Per La squadra Partenopea 5 Con il battuto Napoli Zero Ancora Dallo Shakhtar Donetsk Non riusciamo a vedere la nostra postazione Dalla parte Della nostra destra Dalla nostra postazione Riusciamo a vederlo Perché È stata battuta L'angolo Mamma mia Il numero Bravissimo Il numero Tren Il numero Tren Tren Il numero Diciamo Numero Sì no 23 No 33 No 33 Raul Albiol L'abbiamo visto bene Raul Albiol Raul Albiol Ha fatto un grande Colpo di testa Peccato che il pallone Era fuori Doveva Abbassarsi un pochino Raul Albiol Poteva andare a segnare Il gol del Uno pari E allora ancora Ci prova ancora Shakhtar Fa un po' di ai vai Corsa Correndo lungo Poi c'è Tyson Passa il pallone a Tyson All'in Indietro Per Marlos Marlos Lo vuole dare C'è Tyson in mezzo Non può essere servito Perché tutte Tutte Maglie Tutte maglie Azzurre Quindi Il Napoli c'è in difesa Ma ci deve essere anche per l'attacco Per andare a segnare Un gol importantissimo Per il pareggio Dell'uno a uno Qui Nella partita Contro il Donetsk Vediamo Sepp Che cosa potrà fare Siamo arrivati Al Shakhtar Di Lizzera Segnato Per il Shakhtar D'Onesk Tyson Ancora Il Ancora Un passato Valla Per il Shakhtar D'Onesk Va Stepanenko Lo passa Signore Stepanenko Al portiere Payotov Payotov In via Perché ci sono Delle maglie azzurre A recuperare Il Napoli Il pallone Con Il Sighiuzai Adesso c'era Kalidugunibali Sul pallone Adesso c'è Amadou Diapara Kalidugunibali Scambia indietro Per il numero 23 Il Sighiuzai Ancora Diapara Allora Il Pallone Viene preso Dal Shakhtar Di Donetsk Che sbaglia Tutta L'azione Col pallone Il pallone Torna indietro A proprio A Pepe e Reina Perché Alcuni compagni Reina Avivano Preferito Dargli il pallone Perché Dovano veramente Andare in Grande profondità E allora Sta andando Lo Sta andando Il Napoli Di Maurizio Sarri Questi minuti Diciamo che Alcune azioni Sta facendo Il Donetsk Ma molto bene Il Napoli Perché Sta lottando Con le unghie Con i denti Per questo risultato Quindi Lottare Con le unghie Con i denti È molto importante Lottare Con le unghie Con i denti Allora Diciamo Che Siamo arrivati Siamo arrivati Al minuto 32 E 40 Secondi Shakhtar Donetsk 1 Napoli 0 Andiamo a fare L'epilogo Della partita Di basket Velocissimo Tra la squadra Con il pallone Pepe E allora Finisce all'intervallo Italia 33 Serbia 44 Nel secondo quarto Italia va a 16 punti Serbia 26 Conduce Per 26 punti Nel secondo quarto Ha fatto La La Serbia E quindi Italia È in difficoltà La vicenda di Italia Serbia Va a affrontare La Russia Che Oggi pomeriggio Ha battuto La Grecia Quindi È una partita Emozionante Diciamo che La stava Secondo me Vivendo Molto male Il colcetto Nel Messina Perché Ettore Messina Deve fare qualcosa Eccezionale Andiamo a vedere Volecemente Il calcio d'angolo Torniamo al live Del Napoli Andiamo a vedere Cosa fa Il Il calcio d'angolo Allora Abbiamo battuto Il calcio d'angolo Tutte maglie Tutte maglie Arancioni Arancioni e nere Non vi ho ricordato Allora Il La scuola di casa Attaccherà da sinistra Verso Destra Ho detto Forse c'è un C'è un fallo Di mano Vediamo Forse Un fallo di mano Vediamo Può darsi Sì C'è una punizione Eh sì Punizione Napoli Punizione Napoli Punizione Napoli Ha fatto Il fallo Il numero 19 Fecundo Ferreira Vi ricordo Da sinistra Verso Desse Napoli Ha la maglia Arancione Costrisce nere Poi Pantaloncini Neri Calzettoni Calzettoni Neri Napoli Attanca Da destra Verso Sinistra Maglia Azzurra Pantaloncini Azzurro E calzettoni Azzurri La difesa Schiarata Dal portiere Pajatov Pajatov È importante Può andare Lorenzo Insigne Al tiro Può andare Lorenzo Insigne Andiamoci anche Insigne Pajatov Proprio su Pajatov Sul Sul petto di Pajatov Una bellissima Pallone Para Pajatov E allora Gentile Ascoltatori Deve Secondo me Far qualcosa Pure Sarri Anche Nell'intervallo Ma Anche in questo Finale di match Perché Napoli c'è Napoli sta continuando Napoli sta andando Per la verità E in questi minuti Non poco Sta andando Non poco Sta andando Verso la porta Di Pajatov E allora Ancora Il Napoli Che ha il pallone Con Il Sighiusai Cari di Cunibali Ritano Scarri In dietro Per Pietro Azzerischi L'inserimento Di Giuse Maria Cajon Che secondo me Tra l'altro Fu anche in Furgioco Sarebbe toccato Il pallone E quindi Era anche Troppo lungo Il pallone Per Giuse Maria Cajon Allora Il pallone lungo Era per Giuse Maria Cajon Era Era un buon pallone Sarri si sta sgolando Sarri Sarri fa avanti e indietro Dalla sua panchina Va avanti e indietro Doviamo mancare La nostra postazione Noi dobbiamo Con un piccolo Vi ricordo Vediamo Una Buona Noi abbiamo In tribuna e stampa Una visuale Un po' Un po' Inconsueta Una visuale Perché Vediamo Non riusciamo a vedere Bene Sarri Quindi Capiamo qualcosa Capiamo qualcosa Poi nel modo servizio Che abbiamo Che cosa Veramente Va bene Sarri C'è un Mi sembra Un Forse Non c'è un fallo Ai danni Del numero 31 Fuzzigulam E quindi Da parte Da parte Nel numero 18 Nel numero 18 Ivan Ordez Quindi Il pallone Era uscito E l'ho già Rimesso Ancora Ordez Ancora Ordez All'indietro Deve giocare Per Pajatov Pajatov Rinvia E c'è E c'è Il Napoli Straordinario Napoli Sta giocando Davvero i fenomeni In questi Minuti Del Primo Tempo Non deve regalare Palla Così E allora Non vuole rischiare Torni indietro Il pallone La peperina L'ha mandato Di Avarà Ancora Il Possesso Palla Degli azzurri Che vogliono Continuare A A Riscattare Quel gol L'ha preso Nei primi Minuti Di gioco Da To Tyson Allora Proprio Il numero 33 Raul Albiol Dato indietro Il pallone A A Pepe Rena Di nuovo Raul Albiol Ancora il pallone Raul Albiol Lo scarica Per Cali Di Cunibali Ancora Superano A metà Campo C'è Nel centrocampo Mi sembra Mi sembra Un Quasi un autogol Ragazzi Quasi un autogol Di Ordez Il pallone Era buono Mi sembra Amadou Di Avarà E quindi Un bel tiro cross Poteva fare Qualcosina Vediamo Di chiare il tiro cross Non mi sembra Di Avarà Mi sembra Più Pietro Zieli L'autore Dell'assist Si era Si Si è confermato Alla ricerca Pietro Zieli Quindi il tiratore Bravissimo Pietro Zieli A mettere questo Tiro In importantissimo Sta per far fare L'autorete Ai giocatori Dello Cektarra Di Donetsk Quindi Una partenza Vero straordinaria Importante Però Diciamo che Secondo me Deve fare Qualcosina Di Eccezionale Proprio La squadra Di Maurizio Sarri E allora Lo 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 Cektar Di Donetsk Veramente Sta Vuole andare Lo Cektar Di Donetsk A segnare Un altro gol E vuole Ripartire Con Bernard Bernard Il numero Poi Il passaggio Per il capitano Sernà Darigio Sernà E quindi Non riusciva a prendere il palone E rimessa a fondo La batterà Pepe Reina Il portiere Napoli che in questi ultimi minuti Ha Ha avuto un carattere Straordinario Proprio la squadra Di Maurizio Sarri Bravissimo Sarri Vediamo che ancora Che ancora Mi sa passeggio Vediamo sì Passeggio ancora in panchina Il Vediamo Era Il numero 31 Non era Pietro Zinschia Fuziculam Erano Un po' Erano Sì Hanno Era Proprio Fuziculam Abbiamo riuscito al nostro metodo Del prese di servizio Semplicemente Perché Dalla nostra postazione Non si riusciva a vedere Chi aveva Grossato Molto Perché siamo In tribuna stampa Siamo In una postazione Molto Lontana Però Per quello che Riusciamo a vedere È Molto Importante Allora Il Napoli Che gioca Molto bene Questi minuti Intanto Sono andati profondi Per Pepe Rena E adesso Il pallone va A Raul Abbiol Ancora Il pallone Per il numero Numero Undici Marlos Ancora il pallone Per il Napoli Un buon Bellissimo pallone Per Arkadius Milik Parata di Parata di Pajatov Parata di Pajatov Ma c'era fuori gioco Di Arkadius Milik Fuori Fuori gioco Del attaccante Polacco Arkadius Milik È una Buona intenzione Hanno tutti I giocatori Scalzati Il braccio Perché era fuori gioco Rivediamolo Vediamolo Al momento Del tiro No Era il momento Del tiro Forse col piede Ha visto Giusto La guardalina Col piede Era Col piede Fuori gioco Ha visto benissimo Quindi Non ha tratto di inganno La guardalina Bravissima Il guardalina Non era Al dir vero Ci sembrava Non ci sembrava Però Era fuori gioco Sembrava che Arkadius Veramente andasse a fare un grande gol Si era seduto Poco fa Maurizio Sari Si rialza Maurizio Sari Per dare altre Indicazioni Ai suoi Ai suoi Ai suoi giocatori Ancora il Napoli Con Pietro Arzeliski Allora Albiol Va Albiol Al tiro Milik Non riesce Arkadius Milik Non riesce Arkadius Kayon All'indietro Per 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 Giavara Ancora Ancora All'indietro Per Giavara Allora Diciamo che è un po' Un buon pallone Che era quello Perciò La Fusikulam Il Napoli Deve ragionare Deve giocare Così Deve proprio Ragionare Deve proprio Andare Così Siamo al Quarantiosimo minuto E Il Recupera Il Pallone Payatov E quindi Già Rimesso in capo Il palone Il Quinticesimo Ha segnato Tyson Proprio Della Donetsk Per il vantaggio Proprio Della squadra Di casa Ancora Il Napoli Che attacca Insistentemente Non riesce Quindi Regali Muove il palone A Payatov Gentili ascoltatori Siamo Al Quarantiosimo E 30 Secondi C'è 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 Tardone Scuno Napoli Zer Senato Tyson E allora Tra pochissimo Andremo a Fini di periodo Tempo Andremo a Fare Il Repilogo Delle Parattite Che ci sono Stati In questo Turno Di Champions E C'è I primi 45 minuti Delle Prime Della Prima Giornata Di Champions League Allora Diciamo Che Napoli Deve Attaccare Deve Muoversi Velocemente Se non riesce a fare nulla Bravissimo Raul Albiola Che stacca di testa Vuole recuperare Il Donetsk Ma in Cullibali E' costretto a servire All'inghiero Peperena Non lo fa Ma Scambia Per il compagno Fus Usain Caldito Cullibali Napoli Scatta Il Napoli Con Amzic Non riesce Amzic A mettere Il nuovo pallone Per i suoi compagni Ma è stato Bravissimo Amare Camasi Quindi Puede fare Qualcosina Secondo me Di più Ancora Riparte Lo check Dardion Con Bernard 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 Ancora Scarica All'inghiero Per Fred Ancora Per Stapenko Ancora Il Donetsk Che attacca Con una grande Velocità Il Nu Sta attaccando Il Numero Un Di Marlos Si Allora Allora Ancora Parte Ancora Lo check Dardion Che quindi Va Non riesce A Mettere A Contricidizzare Perché è in fuorigioco E quindi Non È Riuscito Ad Andare Mancano 20 Secondi E finisce Il primo Tempo Vediamo Se ci Sta Il Recupero Se No Si Andrà Con Risalto Di 1 0 Con I Gol Di Tyson Negli Spolitori E Vai Il Sonsigne Andiamo Vedere Quest'ultimo Calcio D'angolo Quest'ultimo Calcio D'angolo Di questo Primo Tempo Lo andrà a battere Da quello che ho visto Mi sa Fuzziculam Sì È proprio Fuzziculam Barte Fuzziculam Niente Da fare Niente Da fare Potarsi Che si Saper Concludere Si Concluderà Penso Qui Il Primo Tempo Il Vediamo Che cosa Potrà Secondo me Fare Il Napoli Il Napoli Per fare Qualcosina Di più Il Napoli Perché deve Concredizzare Deve Andare al gioco Deve andare Al gioco Quindi questo Deve Può fare Il Napoli Bravo Napoli In questa Ultima Ultimissimi Secondo me Mancavano Alla fine Nel Primo Tempo Siamo Nei primi Non in Forma E Donetsk Che attacca Attacca sempre Ebbene Arriva Nei primi C'è Napoli Non esiste Napoli Dopo il gollo Di Di Tyson In Napoli Inizia a farti vedere Inizia ad esistere Napoli Però Non è questo Quello che vorrebbe Fare La squadra Di Di Maurizio Solo attaccare Ma non segnare E quindi Deve essere ancora Di Deve essere ancora Più veloce Il gioco Il gioco Dei ragazzi Di Sari Mentre I ragazzi Di Paolo Fonseca Fonseca Stanno giocando davvero bene E noi adesso Dobbiamo Andare In Andiamo in pausa Musicale Gentili radio Ascoltatori Pausa musicale E noi Appena Torneremo Per il Secondo tempo Tra Shakhtar Di Donetsk E Napoli Sta vincendo Il Donetsk Con Gol Di Tyson Ciao Sono Nicola Galloro E anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato Ciao Sono Davide Terraneo E anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato Ciao Sono Francesco Acchiardi E anch'io ascolto Tutti i giorni Radio Inizia il Campionato Ciao Ciao a tutti Sono Antone Fioretto E anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato Radio Inizia il Campionato Radio Inizia il Campionato Grazie a tutti. 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 Ciao, sono Enzo Margiotta e anche io ascolto sempre, ma sempre Radio inizia il campionato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Radio inizia il campionato. Grazie a tutti. 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 Il calcio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. del Mr. il Napoli. Grazie a tutti. e a tutti. il numero 33. e a tutti. e a tutti. e a tutti. di chi è il palone. e quindi... è una cosa importante. sta allenando. per... e a tutti. e... 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 in un'azione straordinario. e... 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 il... e... può... veramente... fare... e... e... con... e... 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 turno... gruppo... ... e... 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 ... 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 in questo senso deve continuare proprio la squadra più importanti dell'Ucraina insieme alla Dinamo di Kiev devono fare qualcosa in più però non possono fare moltissimo loro non possono fare moltissimo perché se loro non lo riescono a fare è perché devono dare qualcosa di concreto anche a una grande squadra come una squadra grande come lo Cech Tardonsk che è una squadra grande all'Ucraina intanto c'è stato il fallo di Lorenzo Insigne che è stato appena giallato Lorenzo Insigne quindi un fallo proprio per Lorenzo, di fatto da Lorenzo Insigne intanto si prende l'ammunizio Insigne, rischiamo anche Mertens però è una cosa molto importante, rischiamo anche Mertens e ancora andiamo a vedere che cosa può veramente dare questa partita vediamo il Napoli però Napoli che veramente siamo arrivati al 70 71esimo minuto il frattempo che c'è un po' di pausa andiamo a ricordarvi il ripito con la partita di basket Italia-Serbia Italia 72 63 chiedo scusa Serbia 79 sta vincendo la Serbia quindi può darsi una sconfitta male per l'Italia quarto quarto 15 Italia 20 Serbia quindi tantissimi gol in questa fase proprio il Napoli proprio casemina Italia in questa fase non sta andando davvero bene c'è un calcio mi sa di punizione da parte dello Cektar di Donetsk no no c'è un calcio di rigore per il Napoli calcio di rigore per il Napoli sembrava la parte del dove attaccava lo Cektar Donetsk calcio di rigore per il Napoli può riaprire la partita il Napoli può riaprire questo match allora andiamo a vedere chi batte il rigore per il Napoli ed è stato ammonito Taras Stepenko anche di Smert è stato ammonito precedentemente ha messo quindi bene forse bene che c'è il giallo Arcadius Milik c'è il numero 99 riapre subito il match sembrava finita la partita invece Arcadius Milik riapre il match con questo calcio di rigore Arcadius Milik mamma mia con che facilità ha giocato ha trasformato questo e con che facilità sta secondo me giocando questo secondo tempo proprio il Napoli il Napoli deve fare qualcosa veramente di più e deve farlo anche di comunque veramente concreto ve lo voglio ve lo voglio veramente dire allora il Napoli che adesso deve stare attenti a non subire il terzo gol dal Shakhtar di Donetsk però Arcadius c'è una sicurezza Arcadius Milik è una sicurezza Milik perché Milik è un bravissimo giocatore Arcadius secondo me dovrebbe fare qual cosina di più dovrebbe fare il il Napoli per me per andarsi a prendere questo match diciamolo e allora il lo Shakhtar Donetsk adesso mi sa che abbatterà un no ci sono dei giocatori veramente a terra e noi era a terra il numero 18 Ordez che deve uscire dal campo e allora secondo me ci sono gli applausi alla squadra di casa in questo istante anche per l'uscita di Ordez ma non dipende da Ordez il il tiro scusate non dipende da lui che cosa può fare dovrebbe entrare adesso abbiamo visto Victor Kovalenko quindi Victor Kovalenko potrebbe fare il suo ingresso in capo Victor Kovalenko e allora allora ancora il Napoli che secondo me ci vuole trovare però non ci riesce il Napoli a trovare il gol del 2-2 però una bella partita questa una bella partita un po' sofferta una partita eccezionale una partita una partita importantissima ma lo voglio ricordare Alain che sta protestando un po' con l'arbitro che dice che non è d'accordo che c'è un calcio di punizione per lo c'è di Donetsk mentre secondo me potrebbe esserci il calcio di punizione ecc ancora ancora il giocatore il sostituto in in banchina è il giocato per uscire qualcuno ma deve stare aspettando il giocatore Vittor Kovalenko in a bordo campo per andare a sostituire qualcuno allora ricordiamo una cosa importante che questa partita integrale è bellissima è una partita straordinaria ve lo voglio dire ti ascoltatori e allora ancora il ci vuole secondo me provare il il Napoli cioè provare ma non non ci sta non ci sta riuscendo ancora il quasi tiro di Medris Mertens che è subentrato a Marek Hamzik a Marek Hamzik quindi vuol dire che Napoli c'è ci potrà essere ma siamo arrivati intorno al settantassimo minuto per il Napoli lo sfiora il numero 31 Fuzzi Gulam mamma mia sfiora questo pallone proprio Fuzzi Gulam non riesce a fare non riesce ad andare per questo e allora diciamo esce entra il numero come abbiamo già annunciato ma tantissimo tempo fa esce il numero 11 Marlos entra il numero 74 Vittor Covalenco mamma mia che cambio signori che cambio Marlos per Covalenco Covalenco un giocatore di grande momento Covalenco mamma mia un giocatore per questo per il campionato ucraino può fare qualcosa di eccezionale ancora il Napoli che sta attaccando ci vuole provare ancora l'usai Fuzzi Gulam calcio di dunibali ancora il Alan vediamo un fallo un calcio di punizione per il momento un calcio di punizione vediamo chi è che ha fatto il no il fallo al calcio su Milik il fallo battuto benissimo il calcio di punizione potrebbe beh secondo me andare a arrivare il calcio sì c'è il calcio l'angolo per il Napoli lo batterebbe Fuzzi Gulam o Caglione vediamo ci vuole incaricare Fuzzi Gulam ascoltatori vediamo se Fuzzi Gulam riesce ad andare non sbaglia tutto quanto il tiro nella difesa per il momento potrebbe fare qualcosa di più il Napoli però non lo sta facendo non sta veramente mettendo in difficoltà i giocatori i giocatori del Donetsk che potrebbero secondo me fare qualcosina potrebbero fare qualcosina di più il il Napoli però deve essere molto ma molto attenta il Napoli attenta deve continuare a giocare con questa rosa ma deve sistemarla per portarsela anche in nuova Champions League perché se non si riesce a portare in nuova Champions League ha fallito bene ha fallito di tutto la ha fallito di tutto la squadra proprio partenopea ancora parte il Napoli poteva trovare un'intesa con Milik poteva trovare un'intesa con Milik Trismertens mamma mia allora riparte il Donetsk ma sbaglia regaliamo il pallone al Napoli e il pallone va all'indietro per il Sijusai Raul Albiol Adudia Vara adesso il nuovo Raul Albiol il nuovo angolo per il Napoli ma a mettere il pallone in calcio d'angolo Orde Tess a metterla in in calcio d'angolo allora ottanta minuto c'è da Cardones 2 Napoli 1 per il Sijak Dardones che ha segnato Tyson Ferreira per il Napoli su rigore a Cajus Milik batte il calcio d'angolo lo va a battere Giuseppe Maria Caion sbaglio se è Maria Caion che regala a Pajatov tutto quanto il il pallone c'è un non è un fallo secondo l'arbitro il tedesco tra pochissimi giorni anche per la partita di basket che siamo alle conclusioni finali del match che purtroppo mi viene protagonista d'Italia con una sconfitta ancora qui mi è sembrato fallo aveva ragione aveva pensato il Donis perché c'era c'era Fuzzi Kulam e Canidu Cunibali a difendere e quindi a commettere il fallo andiamo a vedere la partita di basket purtroppo l'Italia esce quarti di finale l'Italia 77 Serbia 83 una partita stra brutta dell'Italia stra brutta tra nel primo quarto e il terzo quarto 19 quarti 19 Italia 29 Serbia per questo quarto quarto quindi complessivo è 67 Italia 83 Serbia quindi ci dobbiamo accontentare di essere usciti purtroppo nella partita di basket ancora il lavoro che poteva fare Dries Mertens non c'è è riuscito con un assist del del giocatore entrato che ha sostituito Pietro Rezeliski Gallan e allora ci sta provando il Donetsk per il 3-1 ma ancora non riesce a trovare con mamma mia bravissimo Pepe una giocata tempestiva è bellissima proprio nei confronti di Fred che veramente sta facendo qualcosa di straordinario secondo secondo l'arbitro viene giallato misà Calidui Cunibali si giallato Calidui Cunibali il numero di zile del Napoli che ha giocato una partita questa sera però questo giallo rovina nei confronti il numero 74 il neo entrato Victor Kovalenko quindi ha rovino tutto con il fallo su Kovalenko e quindi secondo me è una partita che è andata al senso unico ma una partita che secondo me ha sbagliato questo Napoli e deve stare chiesto a non sbagliare non prende neanche un altro gol siamo all'84 e 20 secondi Shekdardonesk 2 Napoli 1 ancora il minicross la fitta palo palo mamma mia il numero il penetrato Kovalenko sta per andare a segnare ma era diebole e para Pepe Reina una partita veramente bella straordinaria sta per rivolgere segnare Shekdardonesk tutto il Napoli non è non sta difendendo molto bene tutto il Napoli quindi non è riuscito a difendere in grandissima non è riuscito a difendere molto bene quindi sta per il 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 gol Arcadius Milik quasi quasi poteva scavare un pini pallonetto e andare Arcadius al 3 al 2 al 2 al 2 al 2 mamma che si è divorato Arcadius gentili ascoltatori Arcadius si è divorato qualcosa mamma mia che si è divorato Arcadius mamma mia gentili ascoltatori anche rivisto la rappele di servizio il tiro è un tiro pazzesco rivediamo intanto il prima il palo il palo del numero 8 fredde poi il numero 74 sempre del Donetsk Kovalenko ha quasi segnato il gol del 2 del 3 a 1 ancora il Napoli quando siamo arrivati all'86 minuto il Napoli che soffre qui soffre qui in casa della Donetsk soffrendo tantissimo questo è in casa del Donetsk diciamo perché lo Cektari non ha proprio stadio a disposizione per le guerre tra Russia e Ucraina quindi non si può disputare lì la partita proprio perché si è quasi per alcuni motivi importanti ancora attacca la squadra di Maurizio Sarica adesso sono 4 minuti al fine della partita e a dire che Napoli sta provandoci a segnare il 2-2 per un pareggio in X-Tremis però non ci riesce non ce la fa Insigne fa il fallo sul numero 10 Bernard Bernard c'è stato questo leggero contatto siamo siamo all'86 minuti dove abbiamo detto quindi il Napoli che vuole continuare questo sogno in Europa deve stare molto attento perché Donetsk ha 3 punti però se si perde contro il City il Donetsk e il Napoli fare due risultati importanti potrebbe prendersi il secondo posto mentre il Manchester City sta dilagando nella partita contro Feyenoord Feyenoord 0 Manchester City 4 a 0 Manchester City 4 quindi 4 a 0 ancora il Napoli con il mitico il mitico il mitico il City Usai con il pallone non riesce a regalare il pallone Insigne perché da quello abbiamo capito c'è stato un fallo nei confronti di Lorenzo Insigne quindi vorrei fare qualche altra cosa allora sta andando il Napoli che veramente ci vuole provare recupera la Dinamo recupera scusatemi il Donetsk e quindi stava per andare al gol del 3-1 il Donetsk ma mentre arrivava tutto sommato fortuna Pepe Reina siamo all'87 vedremo quanti minuti di recupero ci saranno ma secondo me almeno 3 devono essere anche per via dei gol che ci sono stati ancora ancora il Napoli che imposta Napoli imposta proprio l'azione vuole impostare la squadra di Maurizio vuole impostare un altro gioco vuole usare il gioco costato sempre ancora il tiro lancio mamma mia Arcadius mamma mia Arcadius mamma mia Arcadius Milik poteva andare sul 2-2 Arcadius Milik no era Kayon perché c'è ingannato la nostra postazione proprio che Arcadius sembra che fosse andare a fare il gol mamma mia che Kayon che Giuseppe che Napoli che Napoli straordinario che Napoli straordinario allora esce un un altro giocatore per il per lo Caktar di Donetsk esce fecundo Ferreira entra in tico in tico ancora il Napoli che attacca che ci vuole provare non riesce il Napoli siamo entrati nell'ultimo mancano mancano 10 secondi e finirà il il match ancora 90 minuti quindi siamo quasi 45esimo del tempo del secondo tempo ancora vuole andare il Napoli con Fuzzi Gullam Cali di Gunnibali il passaggio per il neo entrato all'an non riesce allora riparte lo Caktar di Donetsk ci vuole provare il Donetsk un mini contropede ma bravissimo Raul Albiol a fermare il giocatore a fermare mamma mia vedremo quanto quanto recupero siamo entrati nel minuto siamo entrati i minuti di recupero ancora non ci hanno comunicato quanti minuti di recupero saranno però saranno o tre o quattro e allora allora andiamo comunque a a dirvi che è in forma questo Napoli è informissimo è informissimo il Napoli per quanto riguarda come squadra ma come a livello di giocatori non stanno facendo questa sera una grandissima non stanno facendo una grandissima giocata proprio gli uomini di 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 allora siamo arrivati al 90 2 siamo arrivati al 90 2esimo e ancora non si sa nulla degli identiti allora non si è riuscito a capire quante sono state di recupero allora sono stati 5 minuti di recupero abbiamo quindi la lavagna luminosa l'abbiamo vista annunciato anche lo speaker 5 di recupero quindi abbiamo ancora lungo mancano siamo al 91 e 20 secondi quindi arcadius milik ci vuole provare mi importa arcadius arcadius milik para payatov para payatov mamma mia para payatov para payatov 20 gli ascoltatori para payatov mamma mia mamma mia che cosa brutta che sta facendo che sta usando la squadra di Maurizio Sarri per me deve fare qual cosina veramente veramente di più può andare fino alla fine di questo match a continuare a concludere questa bellissima partita perché il il Napoli adesso deve montare un altro gol e segnare un altro per almeno prendersi i tre punti per prendersi i tre punti ancora siamo al 93 siamo al 92 e 30 secondi diciamo quasi 93 diciamo ancora mancano tre minuti per il momento al Napoli che riparte con con Amadou Diapara Diapara la passa dall'anno all'anno la passa Lorenzo insegne poi mette Casper Milik non riesce Milik a mettere specchio la porta si è fatto male con un giocatore in questa scena presente nello scontro Ordetest che deve per forza uscire dentro Kotlokova abbiamo comunque l'ho ripetuto David Kotlokova quindi è potuto ripetere chi è che veramente è entrato una cosa importante proprio per il Napoli che deve andare a giocarsela secondo me fino alla fine siamo entrati entriamo negli ultimi 30 secondi e poi sarà fine negli ultimi 30 secondi e poi sarà ultimo minuto di recupero ancora il Napoli che ci vuole provare il Napoli non riesce il Napoli non riesce ha il palone a Lula da Biol va all'anno scarica indietro per Fuzziculam ancora il Napoli con gli osai ci vuole ci sta provando ci sta provando il Napoli ad andare a trovare il gol in pochi minuti ma non è semplice non è semplicissimo ancora ancora il Napoli che ci vuole provare ma sbaglia tutto regala a Fred il pallone ancora siamo arrivati al minuto 94 mancano 3 ve lo dico ve lo dico in questo istante mancano 30 secondi alla fine di questo match per Cech Tardones che Napoli si avvicina la sconfitta in Champions per il Napoli ha segnato Tyson per Cech Tardones e ha segnato il numero ha segnato anche Fecundo Ferreira Fecundo Ferreira e allora mancano 10 secondi alla fine della fisco finale potrebbe finire anche qui il match 10 secondi alla fine del match Napoli ci vuole provare ancora il pallone in mezzo non riesce è stato allontanato il pallone ma è finito allora è finito il tempo di recupero sta dando qualcosina di più l'arbitro vedremo che cosa potrà fare il Napoli nelle prossime partite secondo me dovrà fare qualcosina di più voglio dire allora l'arbitro dice che può bastare c'è che Dardone su due Napoli uno allora ancora esce bene la squadra di casa nel pubblico di casa esce molto molto bene ha fatto qualcosa di concreto ha fatto vedere che c'è e che ci potrà essere poi quindi anche Napoli ha fatto vedere che ci può essere in questa Champions League ma non in questa maniera deve farlo vedere in un altro modo che c'è veramente in UEFA Champions League quindi deve capire che non si può andare a fare non si può andare a fare la partitella come se fosse il Csak Tardonezk la prima come se fosse il Crudone faccio l'esempio quindi ormai ha perso il Napoli dove uno ha segnato prima Tyson poi Fekundo Ferreira che a sua volta è stato cambiato poi su calcio di ricorda signor Arcaio Gimilic una partita davvero bella per eccezionale poteva far qualcosa secondo me lo ripeto di più il Napoli però questo è Napoli questo è Napoli Sarri e questo è il suo primo debutto in UEFA Champions League da perdente GTI ascoltatori spero che vi sia piaciuto questa Radio Cronaca vi ricordo di seguire domani Vitesse Lazio Vitesse Lazio allora Vitesse Lazio allora vi ricordo di cliccare sulla pagina Facebook di seguirci sul canale YouTube e scrivetevi al profilo scrivetevi come nome e cognome su Twitter al profilo seguitici al profilo di inizio dal campionato e quindi è tutto per questa partita proprio qui dal Metalis Stadium con i gol di Tyson e Fecundo Ferrera e Arcadio Semini che ha accorciato di senso rigore non è uscito Napoli a battere questo GTI 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 Ciao sono Nicola Galloro e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato Ciao sono Davide Terraneo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato Ciao sono Francesco Acchiardi e anch'io ascolto tutti i giorni Radio Inizia il Campionato Ciao Ciao a tutti sono Antone Fioretto e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato Ciao sono Augusto Santini e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato Ciao Ciao sono Andree Corallo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato Ciao a tutti sono Giulio Incagli e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato Ciao Ciao sono Giovanni e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato Ciao Ciao sono Pietro Cartolano e anche io ascolto Radio Inizia il Campionato Ciao sono Enzo Margiotta e anch'io ascolto sempre ma sempre Radio Inizia il Campionato Radio Inizia Radio Inizia